C'è Sanitraulico che arriva a casa del medico, gli mette a posto un tubicino, tu martellati, gli presenta il conto 500 euro. Il medico, guarda, gli fa massa, sei più caro te di me che faccio il medico. E che ora stai a dire a me? È la stessa cosa che ho detto agli Traulico l'anno scorso quando ancora facevo il medico.